Ti ripeti come hai detto? Perché non l'ho data? No, questa la metti sul fai e hai scritto un mando in galera. Dovevi essere con la telecamera l'altra volta, lassù. No, adesso. Sì, sì, riprendi, riprendi, papà. Perché la federazione non ha capogli di piccola. No, è vera questa, questa è vera. Lui si chiama Cristiano, di nome si chiama? Di cognome? Ah, Marco. E noi se mi diamo le rosse, prima non ce l'ha con noi. Si chiama Cristiano. Gli diciamo che cambi nome, perché noi il nome non lo possiamo cambiare.